Ieri sera ero fatta, stavamo cantando con la signora Marama Ferroche, una signora che gestiva il Ferroche, ha invitato il pubblico a intervenire con lei, a partecipare con lei, improvvisamente durante un cambio di canzone di Poccalardo abbiamo visto un signore subentrare dalla spiaggia e iniziare a gridare, ti ricordi di me? Finalmente ti ho trovato, inizio a far sparare, inizio a sparare il mio tricolico, il reguto abbastanza fortunato è mi regolato, la voce non essere stato colpito essendo fianco a lei.